Arezzo si piazza al 34esimo posto nella nuova indagine sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore. Rispetto a un anno fa Arezzo guadagna due posizioni, un dato diverso rispetto a quanto divulgato dall'altro quotidiano economico Italia Oggi che aveva invece registrato Arezzo in calo di tre posizioni passando dal 38esimo al 41esimo posto. A Osta, secondo i dati del Sole 24 Ore è la città dove si vive meglio seguita da Milano e Trento. La prima Toscana è Firenze piazzatasi sesta seguita da Siena all'undicesimo posto. Vibo Valencia invece è la città dove si vive peggio in assoluto. Scegliendo nel dettaglio il miglior piazzamento Arezzo lo registra nella sezione Affari, Lavoro e Innovazione dove è undicesima in Italia non male. Va bene anche nella categoria Cultura, Tempo Libero e Partecipazione dove è la venticinquesima provincia in Italia. Il piazzamento peggiore invece è nel settore reddito, risparmi e consumi dove la provincia retina si piazza al 68esimo posto.